buongiorno a tutti allora un invito a di venire a scattare sentire questa differenza cioè differenza va bene perché questa è una macchina m10 già uno scatto meraviglioso però questa m10p cioè i vorrei vogliamo tantissimo e che venite a sentire provare e questo scatto la differenza dello scatto martedì martedì sera 11 settembre cavolo cioè questa questa data è troppo dolorosa però rendiamo memoria di ciò che non deve mai più accadere va bene ok a parte ciò vogliamo invitarvi di venire a passare trascorrere con me e con andrea pacella della laica camera italia cioè conosciamo ci conosciamo molto bene e anche voi ci conoscete molto bene è una specie di conversazione tra me e andrea sulla filosofia della laica e poi non abbiamo nessun programma cioè dico subito io e pacella non abbiamo parlato cosa vogliamo parlare no però base e vogliamo trasmettere la nostra passione per il sistema laica m sistema laica m è un sistema che ti prende cioè e che diventa una parte della tua vita cioè veramente perché io quando prendo in mano una laica cioè parlo con la mia vita cioè dai dai vieni con me no e io sono così tanto fiducia o tanta fiducia fiducioso che la mia laica non mi tradisce mai se commetto errore perché sono io incapace non che laica che non va bene no sono io incapace laica mi aiuta sempre mi da la giò mi dà solo tenere in mano, mi dà la gioia, poi io ho una laica M2 che mi è stato quasi regalato da mio carissimo amico e quindi io ho un ponte, ponte dei pensieri, quando prendo in mano, ho anche una laica di Tano D'Amico una laica di Gianni Berengo Gardina, che io non dico regolarmente, ogni tanto tiro fuori, ogni tanto metto la pellicola in quel momento io dico Gianni come stai? Cioè proprio prendo in mano la macchina di Gianni Berengo Gardina e già mi dà una gioia e come Gianni dice, quando tu ce l'hai la laica in mano, hai in mano una storia ed è vero, se sente Gianni, cioè figurati anche io sento, oltre a quello c'è proprio questo ponte di trasmissione dei pensieri e con Gianni, Tano o c'è tanti altri cioè è bellissima, è bellissima e quindi quel momento divento ancora più sincero con me stesso molto più tranquillo, cioè come comincio a sentire il battito cardiaco cioè io ci sono, io vivo e la filosofia della laica è anche questa la bellezza di laica è anche questa e quindi non solo una conversazione tra me e Andrea Pacella e noi vogliamo coinvolgere, se tu vieni anche tu, voglio sentire la tua cioè facciamo una serata di chiacchierata tra di noi quindi 11 martedì 11 settembre ore 19 vi aspettiamo grazie grazie